la felicità esiste certo che esiste il mondo non è come sembra il dualismo non è reale tutto accade dentro l'individuo se diventiamo consapevoli di questo e ci assumiamo totalmente la responsabilità della nostra esistenza acquistiamo il potere di cambiare ciò che percepiamo ovvero di modificare ciò che attraiamo è il modo in cui reagiamo conseguendo una connessione di perfetta felicità si tratta di un cammino che ci permetterà di riconoscere la magia dell'essere di espandere la nostra coscienza per cogliere il senso profondo e autentico della vita e di raggiungere la felicità attraverso la piena autorealizzazione fin quando dai la caccia alla felicità non sei maturo per essere felice e anche se tutto ciò che ami fosse già tuo fin quando ti lamenti del perduto ed è solo mete e nessuna quiete allora non sai cos'è pace solo quando rinunci ad ogni desiderio e non conosci né meta né brama e non chiami più per nome la felicità allora le onde dell'accadere non invadono più il tuo cuore e la tua anima riposa a dispetto di ogni apparenza e di ogni credenza tu sei un essere così straordinario che puoi anche decidere di essere felice la felicità naturalmente non è quella cosa artefatta rappresentata dalla famiglia del molino bianco o la realizzazione improvvisa e fogaccia di qualche desiderio la vera e duratura felicità quella che non ti lascia più non è mai frutto del caso e puoi intenderla come risultato di una scelta libera e consapevole di un atteggiamento di disponibilità a incontrare il divino in te e dell'allenamento necessario ad affrontare con serenità le circostanze talvolta difficili che la vita ti propone sei stato addestrato come tutti a pensare che la felicità dipenda dall'esterno ma se è vero che non puoi governare gli accadimenti dell'universo puoi sempre imparare a reagirmi in modo opportuno questo allenamento è una via che ti porta a diventare consapevoli di essere proprio tu colui che per vie misteriose crea le circostanze della sua vita la felicità è probabilmente la cosa più desiderata su questo pianeta ci sono moltissimi libri che ne parlano ne ho letti un bel po ma con scarsa soddisfazione ho trovato scritti sulla felicità di grandi maestri e di uomini di successo nel campo del counseling della motivazione della crescita personale l'impressione generale che ho avuto è che i libri dei grandi maestri sono vibrazionalmente elevati ma poco digeribili a livello cognitivo e pratico mentre gli altri sono pieni zeppi di esercizi e consigli pratici che tuttavia mancano di una certa consistenza spirituale questo è il motivo che mi ha spinto a scrivere questo libro portare semplicità e praticità a lettore attraverso un piano energetico di alta vibrazione e se c'è una cosa che mi è sempre parsa importante è proprio quella di accompagnare l'insegnamento alle adeguate frequenze vibrazionali il grado di benessere che puoi raggiungere a livello interiore è la conseguenza diretta e mediata del modo in cui comunichi con te stesso non è ciò che accade fuori a determinare come tu ti senti dentro ma nonostante la mente si prodighi a negarlo è l'esatto contrario è come tu ti senti dentro che determina l'esteriorità che proietti in quanto creatore della tua vita ciò che tu sei realmente ovvero la tua essenza la coscienza da vita alla virtualità l'universo lo grafico che chiami mondo esterno accade tutto dentro di te dipende tutto da te come ti senti e frutto non tanto delle circostanze quanto dell'interpretazione che tu dai a queste circostanze di come reagisci ad esse quando prendi coscienza di questo e te ne assumi totalmente la responsabilità entri nel dominio del potere di modificare tutto quello che percepisci ovvero di cambiare ciò che attrae nella tua vita e di modificare anche le tue reazioni a ciò che percepisci la responsabilità è proprio l'abilità di rispondere con efficacia sobrietà e serenità alle circostanze talvolta anche difficili che la vita ti para di fronte senza cadere nella reazione emotiva automatica nella lamentela e nell'autocomiserazione ovviamente la mente si ribella erigenendosi di fronte a queste leggi cosmiche le rifiuta talvolta a constegno tirando in ballo innumerevoli esempi di tragedie sulle quali a suo dire tu non puoi avere alcuna capacità di controllo le fatalità accadono e tu come essere umano ne puoi soltanto subire e certo non ne hai la responsabilità incalza la mente compiacendosi della sua sagacia e della sua furbizia le persone felici non hanno certo meno problemi di quelle che soffrono di autocomiserazione tristezza rammarico solitudine depressione a determinare la loro condizione non è qualche accadimento esteriore ma sempre il modo in cui loro scelgono di percepirlo se tu simuli la tristezza con la postura corporea corrispondente il tono di voce molto basso l'espressione facciale mesta il respiro affannoso e magari pensi pure a qualcosa di triste stai letteralmente creando l'atteggiamento della tristezza stai passando dalla simulazione alla realtà o meglio da un livello di realtà virtuale all'altro e puoi fare la stessa cosa anche all'inverso l'effetto è ugualmente garantito dipende davvero tutto da te sempre e se ti hanno insegnato a pensare male respirare male muoverti male reagire male eccetera questo non giustifica nulla semplicemente spiega che ogni cosa è frutto di decisione applicazione apprendimento abitudine inerzia tutti i fattori modificabili da te indipendentemente da ciò che ti succede fuori la felicità è nelle tue mani sempre la felicità è la condizione più naturale dell'essere sei tu che determini il tuo stato d'animo e il tuo atteggiamento generale nei confronti della vita nessun altro lo può fare al posto tuo e gli eventi semplicemente acquisiscono il significato che tu stesso sei risposto a dar loro non è mia intenzione di mostrarti qualcosa quanto piuttosto mostrarti qualcosa che ti può aiutare a ricordare come vivere felice del resto se decidi di dedicare del tempo a una lettura del genere suppongo che non cerchi in questo ambito certezze dimostrabili ma esperienze umane a voler avere ragione preferisco di gran lunga il voler vivere felice e tu questo non è dunque un manuale tecnico e nemmeno un testo scientifico ma un libro magico parla della magia dell'essere e delle conoscenze sciamaniche iniziati che intorno a questa magia pertanto ti prego di apirti all'ascolto mentre lo leggi sospendendo l'eventuale censura mentale che dovesse subentrare quanto qui scritto non è fatto per piacere alla mente in quanto la maschera e la rimette al suo posto qui non troverai ulteriore cibo per la mente nuove collezioni di nozionismo da catalogare e ordinare nelle righe di questo testo si aggira minacciosa per la mente la presenza dello spirito il linguaggio dell'anima che comunica all'anima silenzio presenza quiete risveglio azione efficace potere e felicità sono i veri protagonisti di questo libro il mondo non è come sembra il dualismo non è reale ma figlio della mente come la paura quando è nato il dualismo è nata la sofferenza tutto ciò che tu percepisci e che la mente ti dice essere fuori di te non è in realtà separata da te ma viene letteralmente creato dentro di te dalla coscienza che sei tu non hai una coscienza rinchiuso in un corpo fisico tu sei una coscienza che crea il corpo fisico il cervello e il sistema percettivo che ti permettono di accordarti su determinati piani di realtà per comodità semantica continuerò a parlare in accordo con la legge dell'attrazione come se fossimo immersi in una dualità sapendo però che essa è del tutto fittizia dirò quindi più e più volte convoluta a ridondanza che sei responsabile al cento per cento di tutto ciò che attiri nella tua vita di come lo interpreti e di come a esso regisci come se fossero cose separate da te ma in realtà intendo dire che sei al cento per cento responsabile della realtà che tu stesso stai creando perché in effetti essa è parte di te della tua misteriosa e profondissima interiorità tu divina presenza ti manifesti a livello conscio inconscio e animico e tra questi tre livelli strutturi le credenze che danno vita alla virtualità in cui ti muovi per fare esperienza di te l'universo che ti circonda non ce l'ha con te se non è la misura in cui tu stesso ce l'hai con te esso è il teatro delle tue sconfinate potenzialità creative che puoi percepire come il tuo campo di battaglia oppure come il tuo campo di gioco sta a te solo a te ogni singolo figurante di questo teatro lo stai creando tu dentro la tua coscienza e lo stai muovendo come una pilina a tuo piacimento per realizzare il tuo proposito evolutivo anche queste piline fanno la stessa cosa siamo tutti co-creatori ma anime frammenti della coscienza universale immersi in un intreccio cosmico inconcepibile per la mente umana tuttavia intuibile animicamente questo è il gioco della vita tutto ciò che è sta giocando con se stesso per conoscersi quando ti fai raggiungere da ciò che accade impari quando invece rifiuti ciò che ti accade rimani nell'ignoranza e l'accadimento rifiutato prima o poi si ripresenta ti propongo una visione verticale che non si contrappone all'ordinaria visione orizzontale dell'esistenza che è quella abituale del vedere le cose come appaiono davanti al naso così come la società ha insegnato a percepirle ma ne ampia dismisura il significato cogliere intituivamente questa visione e comprenderla ti renderà tutto più chiaro e accettabile mentre l'accoglierla in tutte le sue implicazioni ti farà persino ringraziare e benedire ciò che la tua mente ha chiamato finora disgrazia sfortuna l'espansione della tua coscienza ti porterà a scoprire con più chiarezza il profondo e autentico senso della tua vita e a realizzare quella felicità che tu ha per diritto di nascita quando comprendi questo libro ovvero lo porti dentro di te e ne applichi i principi gli esercizi esso ti porta ad un profondo e radicale mutamento del tuo atteggiamento di vita capace di farti sperimentare indipendentemente da come tu abbia vissuto finora la vera gioia di vivere lascia che sia allora e ricordatene tu sei nato per essere felice il simile attira il simile tu attiri nella tua vita a ciò che in quel momento vibra in modo simile a te a parole tutti gli esseri umani sembrano voler essere felici neppure alcuni paiono mettercela tutta nel boicottare in vario modo questa aspirazione si impone quindi prima a scoprire come poter raggiungere una tale condizione il comprendere che cosa si intenda per felicità l'etimologia fa derivare felicità da felicitas felixicis felice la cui radice fe significa abbondanza ricchezza prosperità la nozione di felicità intesa come condizione più o meno stabile di soddisfazione totale occupa un posto di rilievo nelle dottrine morali dell'antichità classica comunemente la felicità viene intesa come lo stato d'animo positivo di chi ritiene soddisfatti tutti i propri desideri questa ottica sembra avere a che fare con la concezione freudiana del principio del piacere secondo cui l'uomo brama l'appagamento immediato e incondizionato dei suoi desideri è contemporaneamente mira all'evitamento di ogni possibile forma di dispiacere e dolore quindi in qualche misura l'uomo contemporaneo sembra confondere la felicità con il piacere che si tratti di una gratificazione dello spirito oppure di un piacere intellettuale oppure di una gradevole esperienza sensoriale il più delle volte la ricerca di questa felicità assume la forma di spasmodici tentativi di riempire i propri vuoti esistenziali con qualche forma di pienezza una pienezza che vorrebbe essere permanente e che viene cercata fuori di sé al bambino piccolo viene insegnato a rinviare il piacere facendogli comprendere che è possibile trovare la soddisfazione del desiderio anche in relazione a ciò che la realtà concretamente presenta per esempio il bisogno fisico di scaricarsi una volta raggiunta l'età in cui i pannolini possono essere dismessi non può sempre essere soddisfatto nel medesimo istante in cui si presenta ma più opportunamente qualche minuto dopo se il bambino di quattro anni seguisse ciecamente il principio del piacere mentre si trova per strada si insudicerebbe creando diversi problemi a se stesso agli altri per questo viene invitato a resistere per il tempo di arrivare a casa o di raggiungere un bagno pubblico e gli impara così il principio di realtà che ha l'obiettivo di rinviare la gratificazione in funzione delle connessioni imposte dal mondo esterno da adulto la spasmodica ricerca della felicità come piacere sembra una sorta di vendetta tragressiva e di regressione rispetto all'apprendimento forzato del principio di realtà ma è anche una trappola perché per quanto si possa trovare il piacere cercandolo fuori di sé di sicuro fuori di sé non si può trovare la felicità la felicità è qualcosa che si può trovare soltanto dentro di sé essa non dipende da cose materiali come per esempio il denaro in effetti ci sono molte persone ricchissime totalmente infelici essa non dipende dalla soddisfazione sessuale in effetti ci sono persone sessualmente del tutto pagate ma infelici essa non dipende nemmeno dal proprio partner affettivo in effetti ci sono persone che hanno trovato l'anima gemella tuttavia si sentono infelici con questo non voglio affatto dire che il poter disporre dell'abbondanza del mondo esterno non aiuti a sentirsi felici la prosperità economica una sessualità soddisfacente un partner con cui vivere una relazione armoniosa sembrano davvero un buon aiuto per vivere felici tuttavia non possono mai essere direttamente la causa delle felicità in quanto essa è una condizione dell'animo che sgorga dall'interno se casualmente tu fossi un romantico incallito della tua mente si stesse in questo momento ribellando a tale postulato ricordo che il partner amoroso è un magico pretesto per far esprimere il tuo cuore le più magnifiche note dell'amore ma tali note possono essere espresse in totale indipendenza dall'oggetto esterno verso cui sono dirette esse nascono invariabilmente dall'interno anche nell'esprime il tuo amore ha il 100 per cento di responsabilità la felicità comincia nel posto più vicino a te l'uomo conosci te stesso ammonisce l'oracolo di delfi ma l'uomo ha paura di conoscere se stesso eppure per sperimentare la felicità è necessario che tu conosca te stesso questo significa avere la capacità di mettersi in discussione e auto osservarsi in modo neutro in uno stato di presenza e comprendere la tua percezione corporea l'espressione delle tue emozioni il riconoscimento dei tuoi stati d'animo e il controllo vigile del tuo pensiero nessuno di questi fattori dovrebbe mai essere al di fuori della tua consapevolezza semplice no in effetti è davvero semplicissimo tuttavia per nulla facile a causa di una vita intera di condizionamenti e programmazioni marco aurelio scriveva la felicità nella tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri quando trovi la quiete non attraverso una rigida imposizione della disciplina quanto piuttosto un'amorevole attenzione a te stesso mentre sei in azione nelle faccende del quotidiano allora in quella quiete puoi cominciare a intravedere la verità le antiche tradizioni spirituali indiane e diverse vie sciamani che indicano nel silenzio uno straordinario alleato per arrivare alla conoscenza di sé nel silenzio cessa l'assordante rumore del mondo caotico e poi ricomporre la scissione instaurata dalla visione dualistica della realtà tutto torna a posto riconosci la separazione come illusione nelle casualità con gli sottili collegamenti e la responsabilità di tutto ciò che attraie di come lo percepisci e di nuovo nelle tue mani mahatma gandhi scriveva la felicità è quando ciò che pensi ciò che dici e ciò che fai sono in armonia nel silenzio la tua percezione si fa diretta pura limpida e da quella quiete l'azione si fa vera profonda creativa e la sperimentazione del reale non passa più attraverso filtri della mente ma attraverso il sentire del cuore e questo sentire è la base della felicità felicità non vuol dire che devi ridere sempre che sei sempre euforico che mantieni una costante esaltazione la felicità è come la vita è azione e movimento la felicità non è pensare di agire è agire davvero puoi renderti molto infelice pensando e molto felice agendo e non ha alcuna importanza di che azione si tratti purché essa sia compiuta in piena presenza tutto si svolge ora non hai bisogno di realizzare qualcosa fuori di te prima per poterti sentire felice dentro di te dopo accade tuttora agisci ora adesso è il miglior momento per essere felici la felicità è quando vivi in armonia con te stesso al punto da dare vita al tuo mondo felice un mondo in cui tu crei la realtà e ne sei padrone quando sei felice te ne rendi conto perché sai di esserlo non è qualcosa in cui stai credendo quanto piuttosto qualcosa che stai sentendo con il cuore la felicità sparisce quando cominci ad analizzarla con i tuoi consueti processi mentali mentre quando sei nella percezione della felicità in piena presenza essa perdura la felicità è uno stato d'animo che nasce dalla percezione dell'armonia tra lo stato psichico interno e le faccende del mondo esterno quando attraverso il silenzio l'autoscolto e la presenza cominci davvero a conoscerti e a integrare in te stesso quelle componenti che prima costituivano conflittualità e riconosci la tua divina presenza allora cogli la perfezione dell'essere senti il primordiale progetto della creazione e sai di esserne parte integrante in quel momento qualunque persona situazione o evento esterno vengono da te riconosciuti per quel che sono la perfezione in azione la sensazione che ne deriva è meravigliosa ti senti di appartenere al tutto e sai di essere parte del tutto la tua vibrazione si eleva il senso del benessere parimenti come tutte le cose di questo mondo anche la felicità si esprime in innumerevoli gradi o livelli di intensità e puoi passare dall'essasi fino alla quieta rilassata amorevole consapevolezza del benessere ogni cosa al suo posto te compreso allora non importa davvero in che direzione si sviluppi in quel momento il creato perché tu comunque ne riconosci la perfezione quando ricordi chi sei totalmente riconosci la perfezione del tutto e in questo non puoi esservi alcun spazio per la lamentela ma soltanto per la contemplazione e la gratitudine e ciò vale anche in contesti ordinariamente definiti tragedie questo che è un discorso davvero ostico lo approfondiamo nei prossimi capitoli come riportato nei miei scritti precedenti la sofferenza è la rappresentazione della distanza che c'è tra quello che hai deciso di fare animicamente e quello che stai facendo davvero la sofferenza è la momentanea indisponibilità a vedere le cose con gli occhi del cuore la sofferenza è una delle forme di oblio che occultano percettivamente la perfezione di ciò che è perché non è vero che la felicità significa una vita senza problemi e poiché anche l'oblio che impedisce di vedere la perfezione delle cose a sua volta perfetto puoi provare a prendere la cosa come una sfida la vita felice spesso viene proprio dal superamento dei tuoi conflitti esistenziali dei tuoi problemi che possono entrambi rivelarsi meravigliose opportunità ogni volta che tu affronti una sfida ti metti in gioco e dai il meglio di te ne deriva una intima profonda soddisfazione che con ogni probabilità non potresti affatto sperimentare se tutto filasse sempre liscio sei proprio un artista ti crei le tue sfide per mostrare a te stesso la tua divina presenza ricordati però di tenere gli occhi ben aperti per contemplarla adeguatamente vuoi davvero essere felice è possibile essere felici una domanda veramente cruciale che ti dovresti porre come premessa della lettura di questo libro vuoi davvero essere felice volerlo davvero non è una cosa così scontata come sembra e più affermano a parole di voler essere felici ma poi si smentiscono continuamente con i loro atti concreti che puntano decisamente in tutt'altra direzione voler davvero essere felice implica prima di tutto una precisa volontà seguita dalla determinazione di mantenere tale volontà nel tempo portando continuamente l'interesse in te che stai agendo sì perché la tua felicità dipende totalmente da te contrariamente a quanto la società ti ha fin qui detto a tal riguardo tu sei il centro di tutto sei tu il centro della tua felicità probabilmente la mente ti dirà che sono delle circostanze della vita a determinare il tuo stato d'animo invece esattamente il contrario è proprio il tuo stato d'animo a determinare le circostanze della tua vita e ti auguro di avere l'apertura mentale il coraggio di voler approfondire un tema così importante da cui il mondo intero sembra averti voluto tenere ben lontano nulla di tutto ciò che possiedi è essenziale alla tua felicità perché non ti appartiene davvero come per tutti anche per te indipendentemente da quanto tu abbia accumulato verrà il giorno in cui lascerai ogni cosa in un attimo quando ne diventi cosciente scopri che ciò che realmente ti appartiene non è illusorio non è affatto ciò che hai ma è ciò che sei a quel punto realizzi di essere a casa in qualunque luogo e in qualunque circostanza e che quello è il tuo centro di gravità permanente che niente nessuno ti potrà mai portare via l'essere è e non può che essere e tu sei sappilo saperlo solo con la mente tuttavia non significa ancora molto ai fini pratici perché ciò che conta è farne esperienza l'autorealizzazione è un'esperienza la felicità a duratura è un'esperienza ti invito così a non credere a nulla di ciò che ti sto dicendo ma di mettere tutto alla prova sperimentandolo concretamente e continuamente quando ti metti in gioco in piena presenza ascoltando sai nel tuo animo che ciò che senti al di là della mente non hai più bisogno di credere a nulla la libertà di percepire è alla base della libertà di essere quando ti autorizzi a essere la tua verità più profonda scopri che la felicità è la tua condizione originaria e naturale la presenza viene intesa come la disponibilità e la capacità di percepirti in quello che stai facendo istante per istante stare pienamente in ogni cosa mentre la stai facendo la realtà intorno a te è tutto un sogno e tu chi sei? sei il sogno o il sognatore? il mondo percettivo in cui ti trovi è una grande illusione questo non significa che sia il reale, tutt'altro si tratta di una realtà virtuale e pertanto modificabile i sciamani di diverse culture a cavallo dei millenni e dei continenti hanno sempre chiamato questa realtà semplicemente sogno il fisico quantistico David Bohm la chiamava ologramma e tu potresti considerarla a ben vedere come una sorta di videogame tempo e spazio sono modi in cui pensiamo e non condizioni in cui viviamo scriveva Albert Einstein la tua realtà di tutti i giorni è una virtualità un teatro virtuale in cui la tua anima rivestendosi di una macchina biologica ha scelto di fare determinate esperienze la coscienza è l'unica vera realtà ed è sempre ovunque è ferma che la si chiami motore immobile assoluto essere spirito astratto nagua al Dio infinito gli esseri dotati di coscienza te compreso ne sono parte e da lì non sono mai mossi l'essere è non può che essere ed è pura autocoscienza indifferenziato privo di tensione quindi fermo al di fuori del tempo quindi eterno al di fuori dello spazio quindi in ogni luogo non conoscendosi non sapendo come è fatto l'essere in una frazione di secondo proietta se stesso nell'asse della conoscenza che è il tetrino della virtualità allo scopo di fare esperienza di sé tutte le esperienze possibili e immaginabili proprio tutte crea così nella virtualità a cui parametri di spazio tempo ed energia potenziale che modificabili attraverso azioni coscienti ossia le scelte fatte permettono l'esperienza le tradizioni hanno chiamato in vario modo quell'aspetto coscienziale che permette di modificare la virtualità la quale non potrebbe modificare se stessa da sola pneuma soffio respiro unità di luce scintilla raggio in una parola si tratta della componente animica quella che alberga pure in te che tu puoi riconoscere come la tua divina presenza essa è l'unica cosa reale della tua vita tutto il resto è sogno virtualità ologramma se non hai mai sentito parlare prima di queste argomentazioni spirituali liberi da ogni religione ammetto che potresti sentirti un po' confuso oppure addirittura contrariato ti hanno insegnato che Dio è fuori di te e io ti sto ricordando che Dio è dentro di te e il bello è che una parte di te la tua divina presenza indipendentemente da quanti contorsionismi possa fare la tua mente sa che è esattamente così non c'è nulla là fuori stai creando tutto tu attraverso la tua coscienza chi ha già camminato per un po' sulla via iniziatica o ha fatto qualche percorso sciamanico o semplicemente molto sveglio ha ormai sviluppato una certa familiarità con questi temi a questo punto hai capito se sei il sogno o il sognatore sei entrambi perché fuori dall'illusione della dualità non c'è alcuna separazione tu sei a tutti gli effetti la divina presenza che fa esperienza di sé la tua coscienza è il sognatore e l'esperienza che fai nella macchina biologica che l'ospita è il sogno quando vieni al mondo il mondo c'è già e viene educato a capirlo e a comportarti come si deve da chi a sua volta ha subito lo stesso precedimento tempo indietro sarebbe tutto normale probabilmente anche per un osservatore neutrale che venisse da un altro mondo se questo processo chiamato socializzazione funzionasse davvero nel rendere l'individuo felice l'efficacia è la misura della verità e invece quello che emerge quando con fare ingenuo ti volgi a osservare gli esseri umani intorno a te è tutt'altro che un oasi di felicità vedi molte persone scontente, frustrate, demoralizzate quanto non palesemente depresse muoversi come formiche in una società frenetica e caotica che le costringe a lavorare come muli per pagare le tasse e le bollette il mutuo della casa, l'affitto la pagnotta da portare a casa qualcosa da mettersi addosso, la benzina, il mantenimento dell'auto e quando possibile qualche minimo svago ti ricordo naturalmente anche se lo sai già che questo bel quadretto ha a che fare con quel fortunato terzo del pianeta che ha un tetto sulla testa e di che mangiare e vestirsi eh sì perché gli altri due terzi del pianeta non sono affatto così fortunati in esso 20.000 bambini e molte altre migliaia di adulti ogni singolo giorno muoiono di fame questo mondo è in mano a pochi potenti e alle loro banche e multinazionali che possono creare denaro letteralmente da nulla e di fatto dirigono ad ogni livello le sorti degli abitanti della terra sotto questo profilo emerge con molta nitidezza un quadro generale di controllo sociale assolutamente inaccettabile che è in tutto e per tutto un sistema schiavizzante chi è sottomesso a livello primariamente materiale subisce senza possibilità di riscatto mentre gli altri all'interno dell'opulenta società occidentalizzata subiscono parimenti le schiavitù sotto la forma mascherata e subdola della normalizzazione si tratta di quel processo che Goethe, due secoli fa, si tedizzava magistralmente nessuno è più schiavo di colui che si ritiene libero senza esserlo Giordano Bruno scriveva se questa scienza che grandi vantaggi porterà all'uomo non servirà all'uomo per comprendere se stesso finirà per rigirarsi contro l'uomo è così i moderni schiavi occidentali si trovano a lavorare 8-10 ore al giorno per 5-6 giorni alla settimana in un contesto lugubre di restrizione della libertà come George Orwell con il celeberrimo romanzo 1984 aveva previsto e come Charles Chaplin aveva magistralmente messo in luce nel film Tempi Moderni la cui immagine più emblematica ormai fissata nell'immaginario collettivo è quella dell'operaio imprigionato negli enormi ingranaggi della fabbrica Chaplin era un pacifista capace di denunciare duramente la cupa realtà dei lavoratori dei poveri e degli emarginati e aveva messo in piena luce la contraddizione della società in un'intervista rilasciata al New York World nel febbraio del 1931 aveva affermato i macchinari che consentono di risparmiare mano d'opera e altre invenzioni moderne non sono stati fatti per ricavare profitto ma per assistere l'umanità nella ricerca della felicità quasi un secolo dopo le cose sembrano davvero peggiorate l'individuo viene letteralmente derubato della sua vita, del suo tempo, della sua felicità da un sistema sociale schiavizzante e di tutto questo fatte salve generiche lamentele non sembra accorgersene in quanto completamente addormentato talvolta come ogni buon schiavo arriva persino a difendere il suo padrone perché tra le cose che gli sono state portate via c'è anche la sua voglia di sognare la sua capacità di immaginare la libertà nulla è così facile da controllare quanto una persona infelice nulla è così difficile da controllare quanto una persona felice questo è il motivo per cui gli esseri umani vengono addestrati sin da piccoli all'infelicità nella nostra società è stato creato ad arte un contesto di sofferenza che non è affatto necessario ma è utile e strumentale alle forze che hanno generato per mantenere con efficacia lo status quo di controllo generale se tu sei libero il mondo non ti controlla mentre quando l'essere umano crede nei paradigmi ipnotizzanti della società dà inizio con tacito e inconsapevole assenso alla propria riduzione in schiavitù in parole povere sei umano quindi devi soffrire questo credo viene talmente ben interiorizzato che quando si sta bene ma veramente bene o non ci si crede o ci si sente in colpa e ci si vergogna è davvero sconcertante l'effetto sugli umani di una cultura subdolamente autodistruttiva durante la mia vita ogni volta che mi chiedevano come stavo e rispondevo per lo più con un entusiastico bene grazie accompagnato da un largo sorriso mi accorgevo che questa risposta mi sgorgava da dentro e intuivo che di per sé non aveva un reale collegamento con ciò che stavo vivendo fuori dalle mie parti quando si pone quella domanda in seno agli usuali convenevoli la risposta è spesso e si tira avanti accompagnato da una smorfia a metà tra la mestizia e la rassegnazione tale risposta sembra rivelare anche una nota di sforzo esistenziale di fatica di vivere un po' come a dire non va proprio bene ma lo faccio andare dandomi da fare in definitiva sembra quasi una sorta di giustificazione quel poco che mi va bene me lo sto proprio sudando quindi non ci provare nemmeno a invidiarmi tanta roba in quel si tira avanti naturalmente troviamo anche quelli per cui sembra una vera e propria gara a chi sta peggio e sono quelli che ti fanno un reportage completo del proprio interminabile elenco di sfighe che hanno dovuto subire oppure ti fanno un resoconto accurato di persone la cui morte presumono ti interessi tantissimo non appena esci dall'incanto ma per molti non c'è nemmeno quello della spensierata infanzia incontri un mondo ostile selvaggio predatorio raccontato da telegiornali inguardabili fatto di frenesia e preoccupazione di duro lavoro obblighi in mani e tanta precarietà è un mondo in cui la felicità sembra relegata all'ultimo posto delle liste delle cose importanti da realizzare ci sono le guerre la fame nel mondo le ingiustizie sociali le religioni le banche le multinazionali le violenze di ogni tipo governanti e politicanti senza anima cos'altro ti può spaventare se non ti spaventa vivere qui sul pianeta terra venisse un giorno un maestro asceso ci è stato insegnato che questa nostra vita è una vera e propria arena in cui combattere di continuo è il fatto di leggere questo mal comune come un mezzo gaudio non ha mai aiutato nessuno semmai ha contribuito a creare ancora più intorpidimento e perdita motivazionale la crisi globale non esiste di per sé ma è stata opportunamente creata per congelare l'umano naturale istinto alla libertà vedere la crisi rimbalzare in ogni dove a causa dei media collusi con il regime schiavizzante porta il singolo non solo ad uno stato che rasenta la depressione ma sta letteralmente sospingendo l'individuo a creare quello stato depressivo l'umanità viene costantemente bombardata di messaggi negativi sul suo futuro al fine di preservarla proprio da quel tipo di futuro ogni essere umano come sappiamo crea la realtà in base ai suoi sistemi di credenze e in questo porta proprio alla distruzione del pianeta terra il mondo è come tu pensi che sia tutto è possibile tutto è collegato l'energia va dove si dirige l'attenzione recitando i tre primi principi del sciamanismo una continuare a pensare male il mondo lo crea tale l'essere umano non ancora risvegliato crea con le sue mani un mondo capace di deprimerlo e la mancanza della conoscenza di una cultura della felicità lo porta a rinnovare incessantemente tale circuito vizioso negativo mi viene in mente un episodio concreto Diana una paziente di molti anni fa soffriva di gelosia a un livello davvero disagevole aveva subito l'abbandono dei genitori a causa di un incidente stradale appena adolescente e ora il pensiero di perdere l'affetto di suo marito era per lei devastante questa fobia e quest'ansia continua si stavano pericolosamente insinuando nel loro rapporto di coppia sotto forma di reiterati sospetti e conseguente irrigidimento emotivo dopo un po' questi sospetti incessantemente rievocati e ossessivamente irrigidati vennero da lei scambiati per certezze e la rigidità sfociò in palese mancanza di fiducia compromissione della serenità nei loro dialoghi e la perdita di ogni spontaneità relazionale chiusa ad ogni tentativo di chiarimento e l'assicurazione da parte del marito la cosa divenne per quest'ultimo inesorabilmente logorante dopo qualche mese di febbrile inquietudine e la devastante ansia di Diana le fecero effettivamente realizzare lo scenario tanto temuto lui l'aveva alla fine tradita la sua profezia autoavverante sorretta nel tempo dall'energia della paura si era concretizzata quando incontrai Diana lei era fortunatamente disponibile a mettersi in discussione e dopo qualche tempo di lavoro su di sé riuscì a elaborare il lutto sia per quanto l'era appena accaduto sia per quella fantasia di un amore perfetto stabile e garantito che si era costruita per proteggersi dal dolore di quell'abbandono primario che aveva subito da fanciulla da bambino ha imparato a dare risposte positive a stimoli positivi e risposte negative a stimoli negativi le procedure educative sembrano essere stesse orientate a modalità ricattatorie se fai come ti dico io ti voglio tanto bene se non lo fai mi crei dolore e ti devi sentire in colpa l'abitudine a rispondere in maniera condizionata è uno dei motivi per cui non hai continuato a crescere felice come avresti potuto anziché sviluppare la totalità del tuo essere hai appreso ad agire in modo meccanico non essendo padrone delle tue scelte il fatto che oggi da adulto inconsciamente tendi a continuare a comportarti così è un grosso problema che porta a passività frustrazione dipendenza e a evitare l'assunzione di responsabilità è così quando ti dicono che sei bravo ti senti bene è quando ti dicono che sei stupido ti senti male anche se sei perfettamente cosciente di non essere affatto stupido il condizionamento diventa abitudine meccanica non permettendoli di creare di volta in volta risposte originali e pertinenti ad un dato momento non manifestando risposte autentiche ma aspettandoti di fatto che esse scattino in modo automatico trascorri la tua vita in stato di trans programmato a rispondere agli stimoli esterni in base ai dati raccolti durante l'infanzia diventa del tutto coerente con questo assopimento frequentare le persone che ti lusingano ed evitare quelle che ti criticano alla faccia dell'autenticità la società ti ha convinto che tutto questo quando funziona si chiama felicità ma in cuor tuo sai che la verità la vera felicità è tutt'altra cosa un altro ostacolo alla crescita naturale sono i modelli comportamentali imposti dalla socializzazione vere e proprie istruzioni d'uso su come comportarti e di standardizzazione del pensiero ti hanno fatto ben presso capire che nella misura in cui accoglievi queste istruzioni sul buon vivere venivi premiato e in caso contrario punito che questi modelli abbiano sempre calpestato la tua spontaneità la tua creatività e la tua capacità percettiva fa parte del gioco era sottinteso che dovevi conformarti al sistema piuttosto che essere te stesso e in questa maniera si è radicato in te la subdola credenza che ha molto più valore il tuo modo di essere che il tuo semplice essere hai così appreso come tutti a cercare la pienezza non dentro di te l'unico luogo in cui effettivamente si trova ma sempre soltanto fuori di te nelle ideologie nelle religioni in bizzarre credenze nei luoghi comuni hanno voluto che tu ti alienassi che vivessi costantemente fuori di te fuori dal tuo magnifico centro di potere di saggezza e di amore incondizionato i modelli hanno delle regole e tu passi la vita cercando di conformarti a esse perché proprio in relazione a quanto tu vi aderisci gli altri ti giudicano il tuo accettare più o meno consapevolmente il giudizio degli altri riforma nel tempo l'idea che hai di te va da sé che è un'idea estremamente limitante rispetto a ciò che davvero sei quando ti identifichi nei modelli comportamentali non puoi stare veramente bene in quanto non riesci mai a vivere all'altezza delle loro aspettative non sei mai abbastanza buono intelligente forte capace eccetera così finisci per vivere come un'idea ed allenarti dal tuo vero centro quando invece sei tutt'altro sei una splendida realtà vivente proprio lo scoprire la tua identità primaria ti consente di vivere pienamente nel mondo la sofferenza è un possibile messaggero non il nemico perché si soffre sul piano fisico il dolore può essere definito come un'esperienza sensoriale ed emozionale e sgradevole associata ad un danno effettivo o potenziale dei tessuti nella reazione fisiologica di dolore sono presenti componenti sensitive affettive e cognitive che interagiscono confluendo nella complessa e soggettiva risposta dell'individuo il dolore si configura come un elaborato sistema d'allarme ed è funzionale alla protezione dell'organismo se tu non fossi dotato dei recettori del dolore subiresti numerevoli attacchi e rischieresti di continuo la tua incolumità per esempio potresti uscionarti gravemente o morire dissanguato a causa di circostanze di cui nemmeno ti accorgeresti il dolore dunque è un importante messaggero capace di avvisare di un incombente pericolo e questo vale a livello fisico psicologico emozionale e spirituale al dolore ci si può anche abituare però e cronicizzandosi esso tende a perdere la sua valenza originaria e a rendere le persone apatiche stare tanto nel dolore paradossalmente può portare all'indolenza e all'incapacità di reagire in altre parole il dolore è uno stimolo a cambiare qualcosa eppure può essere interpretato come un incubo senza via d'uscita da coloro che ne vengono sopraffatti a suoi fatti i tentativi di proporre interpretazioni evolutive delle sciagure occorse alla persona sofferente tende generalmente a scatenare in loro delle resistenze mentali spesso persino astiose e aggressive come può essere loro la colpa se delle sciagure gli si sono abbattute contro e quando non bastano le loro sciagure cominciano a elencarti i mali del mondo di cui sono pre dalle vittime innocenti più disparate come per esempio i bambini uccisi in Siria sembra che riescano a vedere solo la colpa e la colpa ovviamente inaccettabile in quanto effettivamente non esiste le cose non sono mai colpa di qualcuno in un mondo in cui tutto è perfetto molte volte in Facebook mi sono trovato a confrontarmi con le medesime obiezioni nei posti in cui parlo di responsabilità e del fatto che ognuno è al 100% responsabile di tutto ciò che attira di come lo interpreta e di come a esso reagisce una volta colso il senso e il significato del dolore come sintomo di un qualche tipo di disarmonia è importante comprendere che esso non è il nemico esattamente come non lo è qualunque altro sintomo il dolore acquista il ruolo di alleato quando all'inizio di una nuova fase di apprendimento dell'umano vivere si pone come segnale d'allarme e come stimolo di reazione a qualche forma di squilibrio interiore questo vale per ogni forma di sofferenza perché ancora una volta ti ricordo che nel teatro virtuale in cui ti stai manifestando non esiste nulla là fuori stai creando tutto tu in quanto divina presenza che fa esperienza in un corpo puoi conoscere il valore della vita passano attraverso l'esperienza della caducità della morte così allo stesso modo per dare senso e significato alla totalità di ciò che sei scegli di sperimentare in vario modo la deprivazione e la perdita la perdita del lavoro porta con sé una sofferenza per le conseguenze pratiche che questo comporta nella propria famiglia la perdita del partner può rappresentare un grande dolore quando si viene lasciati per tutte le implicazioni affettive e non ultime quelle legate alle abitudini e al possesso ancora più intensa e vissuta inizialmente come irreversibile è la sofferenza dovuta alla perdita per decesso molto dolorosamente può essere vissuta anche la perdita della propria salute o di quella di una persona amata nel prossimo capitolo verranno affrontate in ottica pratica queste quattro tipologie di sofferenza che sono molto comuni quando vengono travolti da eventi inaspettati e drammaticamente traumatici gli esseri umani tendono in genere a essere sopraffatti e a dimenticare proprio ciò che li potrebbe massimamente aiutare in quel momento la loro divina presenza ciò che essi davvero sono l'essenza sotto questo profilo ogni sofferenza rappresenta una forma minore della sofferenza architipica quella primaria dettata dall'abbandono da Dio essendo l'uomo in essenza puro amore pura luce e pura energia le tre qualità fondamentali dell'essere egli cerca nel mondo fenomenico nella realtà virtuale ciò di cui è costituito in realtà non trovandolo sperimenta le tre angosce fondamentali l'angoscia dall'abbandono l'angoscia di identità l'angoscia di impotenza queste forme di sofferenza architipica hanno lo scopo di far tornare l'uomo in sé portandogli la conoscenza attraverso la deprivazione del reale valore dell'autentico significato dell'essere è soltanto dentro di sé che è possibile trovare la vera sorgente della felicità la felicità è una questione interiore piuttosto che esteriore in quanto non dipende mai da ciò che tu hai ma da ciò che tu sei e da quanto ne sei consapevole le cose sono come sono e di solito non sono minimamente come dovrebbero essere eppure sono perfette le cose sono come sono in un dato istante non cambiano secondo la tua volontà ma tu puoi cambiare il tuo modo di vederle il lavoro su di te eseguito in piena presenza attraverso l'ascolto e l'autoosservazione ti può portare sempre più a comprendere la tua innata natura spirituale e il fatto che tu non sei una creatura materiale impegnata in un percorso spirituale ma una creatura spirituale impegnata in un percorso materiale la tua vera natura è la divina presenza il teatro in cui la sperimenti ora è un sogno chiamato pianeta terra Shakespeare scriveva nella tempesta noi siamo fatti della stessa sostanza dei sogni e nello spazio e nel tempo di un sogno era chiusa la nostra breve vita la sofferenza non è mai casuale può dipendere da motivazioni sia consce che inconsce che da misteriosi motivi dell'anima una volta recepita la lezione che ogni sofferenza porta con sé tuttavia è altrettanto importante lasciarla poi andare facendo pienamente tesoro dell'esperienza vissuta crogiolarsi nel dolore è già deleterio ma perseverare in tale condizione sarebbe davvero diabolico in quanto autodistruttivo del resto è proprio perché ti sei scottato una volta nell'acqua bollente che ora ha preso l'insegnamento presti molta attenzione alle pentole sul fuoco e insegna ai più piccoli altrettanta cautela hai scelto di fare un'esperienza di apprendimento su questa terra e apprendere significa proprio integrare nella tua vita le cose nuove che via via impari oltre a lasciare andare la sofferenza è importante che tu non ti identifichi mai con essa tu non sei la tua sofferenza essa è soltanto una storia che tu ti racconti per imparare qualcosa una volta raccontata rammenta la storia trattienine il prezioso insegnamento ricorda di non confonderti mai con essa e lascia andare il dolore che essa ha portato a te è utile l'insegnamento non il dolore come già detto sei responsabile al 100% di ciò che attrae nella tua vita di come lo percepisci e di come a esso reagisci dopo aver eliminato quelle eventuali resistenze mentali che probabilmente miravano a farti leggere la parola responsabile come colpevole il tuo buonsenso familiarizzerà certamente con una certa facilità con una delle più importanti leggi dell'universo la legge dell'attrazione e se la conosci già vediamo di andare ancora oltre la legge dell'attrazione o dell'amore o della risonanza afferma che il simile attira il simile ogni persona tutti gli eventi della tua vita sono lì perché tu li hai attratti lì ciò che tu decidi di fare con essi dipende da te Richard Buck vagabondando qua e là un grosso cane finì in una stanza in cui le pareti erano dei grandi specchi così si vide improvvisamente circondato da cani si infuriò cominciò a digrignare i denti e a ringhiare tutti i cani delle pareti naturalmente fecero altrettanto scoprendo le loro minacciose zanne il cane cominciò a girare vorticosamente su se stesso per difendersi contro gli attaccanti poi abbaiando rabbiosamente si scagliò contro uno dei suoi presunti assalitori finì a terra tamortito e sanguinante per il tremendo urto contro lo specchio avessi scodinzolato in modo amichevole una sola volta tutti i cani degli specchi l'avrebbero ricambiato e sarebbe stato un incontro festoso tutto è energia e tu attiri nella tua vita ciò che vibra in modo simile a te ma a quale parte di te tutte le parti di te il punto è che la maggior parte di esse sono ben nascoste quindi quando attiri nella tua vita cose negative che non riconosci che non senti egosintoniche che non senti familiari quale parte di te le sta tirando non c'è un'età per essere vivo non c'è una verità ma non sei solo volgi al presente il tuo intimo durezza e vanità non ha un futuro e ti accorgerai che tutto torna a punto tutto è accaduto se il tuo cammino un cuore non ce l'ha che ti sveglierà il bisogno di un amore puro perché così che siamo perché così cresciamo tutto deve essere fatto ancora tutto deve essere fatto ancora lascia stare le tazzo vola c'è un eterno presente allora tutto deve essere fatto ancora tutto deve essere fatto ancora se vuoi darti da fare ora la tua sete di vita bevila o c'è viltà o c'è la gloria non si mercifica la propria vita ma che sconfitta ma che vittoria è un gioco d'anime è un'avventura e ti accorgerai che tutto torna a punto e a capo se il tuo cammino un cuore non ce l'ha che ti sveglierà il bisogno di un amore puro perché così che siamo perché così cresciamo tutto deve essere fatto ancora tutto deve essere fatto ancora lascia stare le tasto ruola c'è un eterno presente allora tutto deve essere fatto ancora tutto deve essere fatto ancora se vuoi darti da fare ora la tua sete di vita bevila la tua sete di vita bevila la tua sete è un'avventura di vita Grazie a tutti